I carabinieri di Ragusa hanno arrestato la donna ritenuta complice di Rosario Scrofani negli episodi di violenza sessuale su minori per i quali l'uomo è stato tratto in arresto due giorni fa. I fatti risalgono agli anni 2010-2012, quando i due complici perpetrarono violenza in danno di due minori all'epoca di 10 e 13 anni. Alla donna, 47enne, è stato contestato il medesimo capo d'accusa di Scrofani, violenza sessuale aggravata poiché perpetrata in danno di minorenni e continuata perché è consistita in più episodi di un medesimo disegno criminoso. La condanne ha tre anni e sei mesi di reclusione, mentre erano stati inflitti cinque anni a Scrofani. La donna è stata rintracciata dai militari nella propria abitazione, dove le è stato notificato il provvedimento ed è stata condotta presso la caserma del comando provinciale Carabinieri in piazza Caduti di Nassiria. Successivamente la donna è stata portata presso il carcere femminile di Catania, dove sconterà la pena detentiva. Grazie.